impegnati a te Domenica 26 aprile, San Cleto è il 117esimo giorno dall'inizio dell'anno ne mancano 249 al termine il sole solge le 6.06 tramonta le 20.12 la luna solge le 8.07 tramonta le 23.35 la pace di lodi tra veneziani e milanesi sancisce i nuovi confini della Repubblica Lagunare che vanno dal fiume Isonzo al fiume Adda più il territorio di Crema, Ravenna e una fetta del Trentino le previsioni per domani schiarite alternate nuvolosità irregolare con maggiori addensamenti nelle ore pomeridiane sulle zone montane e pedemontane precipitazioni fino a metà mattina assenti in seguito aumento della probabilità fino a medio alta di locali rovesci o temporali sulle zone montane e pedemontane e occasionalmente anche sulla pianura settentrionare temperature senza notevoli variazioni a proposito Grazie a tutti.